Le rappresentanze amministrative forensi delle sedi dei 30 tribunali soppressi in Italia in attuazione della riforma della geografia giudiziaria hanno costituito il 20 luglio dello scorso anno il Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità, il cui presidente è l'avvocato Pippo Agnusdei del Foro di Lucera, e ha tenuto finora tre assemblee a Roma, una a Catania e l'ultima il 23 febbraio scorso a Rossano, nel corso della quale il ministro della giustizia ha fatto conoscere la disponibilità del ministero a incontrare il Comitato, che ne aveva fatto da tempo richiesta, al fine di valutare la possibilità di un intervento normativo che in linea con quanto previsto al paragrafo 12 del contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega, consenta la riapertura degli uffici giudiziari chiusi in attuazione della revisione delle circoscrizioni, come è avvenuto anche per il Tribunale di Lucera, che è stato accorpato al Tribunale di Foggia. La delegazione di Lucera, presente all'incontro di Rossano, che ha registrato 200 partecipanti, era composta dagli avvocati Pippo Agnusdei, Giuseppe Pitta, in rappresentanza del Comune di Lucera, Lucio Cesarini e Gianni Tucci, in rappresentanza del Comitato per la difesa della legalità incapitanata. Il ministro ha convocato il Comitato per il giorno 19 marzo 2019.